Come desideri. Finiamola. Fuoco! Pace interiore, pace interiore, pace interiore. Dai! Di nuovo! Sì! Sì! Uccidetelo! Qualcuno lo uccida! Uohohohoho-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Wow! 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 Whoa! Ehh! Che? No! Continuate! Continuate a sparare! No! Oralala! Vkadoush! Ai... Ai... come come ci sei riuscito beh sai tieni i polsi alti le spalle le salle come hai trovato la pace io ti ho portato via i tuoi genitori ogni cosa ti ho lasciato una cicatrice a vita beh questo è il punto chen le cicatrici si rimarginano no invece le ferite si rimarginano ah è vero le cicatrici cosa fanno? sbiadiscono? non mi interessa cosa fanno le cicatrici dovrebbe chen è ora che lasci andare il passato perché non ha più alcuna importanza tutto ciò che conta è quello che decidi di essere adesso hai ragione e io scelgo questo sì 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 sì